Ciao ragazzi, bentrovati in questo nuovo video. Oggi siamo qui per terminare di raccontare la storia di come è nato il progetto Eleven. Ci eravamo lasciati la volta scorsa con me e il mio collega dell'epoca Federico, intenti a incontrare quello che poi sarebbe diventato il nostro primo fornitore. Eravamo a Manchester, avevamo delle spettative altissime e invece ci trovammo di fronte una casa della working class inglese e una situazione tutt'altro che tranquillizzante. Per cui cominciamo! Quello che ho qui è il documento che avevo con me quel giorno in cui avvenne l'incontro con il fornitore, con il nostro primo primo fornitore. A vederlo oggi fa veramente un po' sorridere in quanto rappresenta a tutti gli effetti quella che era la nostra ingenuità, la nostra impreparazione di fronte a un'attività come questa. Infatti guardando possiamo notare come non c'era minimamente accenno a un progetto economico o comunque allo strutturare un business. Al contrario la prima pagina era dedicata a una specie di storytelling che andava dietro al design del guanto che di base non ha nulla di concreto ma è semplicemente una presentazione abbastanza carina di quella che era la nostra idea dietro al prodotto. Nella seconda poi come possiamo vedere c'era in realtà un po' più di sostanza, c'era strutturato quello che sarebbe stato poi il disegno del guanto e tutte le sue parti strutturali. Da denotare almeno per l'aspetto pratico del guanto avevamo le idee molto chiare, sapevamo come volevamo il prodotto, quali dovevano essere le sue caratteristiche principali, quelle che secondo me noi erano i capisaldi del nostro futuro prodotto. Poi nella terza parte chiamiamola così c'erano varie altre ipotesi di colorazione. Come vedi era qualcosa di estremamente semplice, estremamente poco concreto e che trasmetteva come già di tutta la nostra ingenuità nell'approcciarci a un progetto del genere. Ad oggi ripensandoci mi viene un po' da sorridere ma al fornitore fondamentalmente importava relativamente, nel senso che dopo averci spiegato un po' come funziona il guanto, quali sono i materiali, le differenze tra un lattice piuttosto che un altro, quali sono i processi produttivi fondamentali, cosa aggiunge costo e cosa toglie costo al prodotto e qual è il prezzo, quale era il prezzo medio al quale si poteva acquistare un prodotto di qualità medio alta. Dopo questa breve descrizione ovviamente la cosa lui era abbastanza tranquillo, non gli importava che fossimo un po' sprovveduti perché per gli accordi o le pretese che lui aveva non si sarebbe dovuto preoccupare in quanto noi avremmo dovuto versare l'80% dell'ordine anticipatamente, quindi fondamentalmente finché non avrebbe avisto i soldi sul conto non avrebbe avuto problemi della nostra serietà. Noi invece eravamo su un altro pianeta, eravamo felicissimi tornando non riuscivamo a credere all'idea che avremmo prodotto finalmente i nostri guanti e che le idee partorite dalle nostre menti sarebbero poi tramutati in prodotti reali. Giusto per fare un piccolo remind, era il giugno 2014 e per chi di voi non lo sapesse 11 è partita nel luglio 2016, sono stati due anni impossibili pieni di peripezie che hanno rallentato e posticipato tantissimo la partenza del progetto. Il primo modello fu difficilissimo da produrre, in realtà erano due, erano lo Schissorand e il Pure Madness. I primi prototipi erano veramente terribili e si scucivano, perdevano colore, erano proprio brutti da vedere e già quello portò via tantissimo tempo quasi tutta l'estate. In più dall'altra parte stavamo cercando di strutturare un business, un business che avesse delle solide basi, che avesse un'idea. In quel periodo per me fu fondamentale Simone Pugliaffito che è un mio amico, mio carissimo amico e che con la sua agenzia TEDA ha portato poi avanti, ha seguito Eleven fino ad oggi. Fu fondamentale il suo apporto per aiutarmi a capire che vanno messi dei paletti, delle solide basi, se si vuole avere un business che ha un successo. Per cui la prima cosa sulla quale ci concentrammo fu proprio quella. Poi ovviamente c'era il problema logistico, ovvero io ero tornato a Verona dopo l'esperienza in Toscana, mentre Federico rimaneva in provincia di Siena e provavamo a gestire al meglio il nostro rapporto cercando di organizzare sia a livello poi burocratico e fiscale, ma anche a livello proprio pratico come gestire l'attività. Inizialmente l'entusiasmo superava questi problemi, poi piano piano i problemi vennero a galla. Fino a quando, verso novembre dello stesso anno, ricevetti da Federico la notizia che aveva deciso di tirarsi indietro dal progetto. Per me fu veramente una mazzata perché in quel momento lì stavamo per partire, avevamo appena finito di produrre i guanti, li avevamo in casa e per cui tutto di un colpo mi trovai solo, senza un socio e senza qualcuno che supportasse, che mi desse una mano a portare avanti il progetto. Il problema poi era come venderli i guanti. Avevamo iniziato a sviluppare un sito con Teda, però ovviamente mancava una rete di clienti, mancava tutto sostanzialmente, per cui in quel momento la prima cosa che potevo fare era proporlo agli amici, cercare di offrirlo mostrandolo alle persone che conoscevo e sperando di avere dei feedback positivi per poter poi magari mettere via qualcosina e produrre ancora altri prodotti. Non tenevo conto di quello che sarebbe stato poi un ulteriore problema, ovvero quello del nome. Eleven con la E sarebbe stato problematico da registrare, tanto che fumo costretti a tornare indietro e risviluppare un altro logo, cambiando la E con due I, per cercare di rendere e di poter completare la registrazione del brand serenamente. Questo ci fece perdere dell'altro tempo e tutto di un colpo ci trovammo a febbraio 2015, quindi era passato quasi un anno dall'inizio del progetto, avevo i guanti ma fondamentalmente poco altro. Iniziai per cui a sviluppare un secondo modello da poter lanciare con il nome nuovo e lì nacque il secondo problema. I rapporti con il primo fornitore si erano incrinati perché fu veramente complesso sviluppare il primo paio di guanti e cercavo qualcun altro di cui potermi fidare e affidare. Pensavo di averlo trovato, i prototipi erano discreti, non ottimi, però ero convinto che avrei potuto lanciare un buon prodotto nell'estate 2015, fino a quando poi non ricevetti in larghissimo ritardo tutta l'intera produzione e aprendo le scatole mi accorsi che i prodotti 250 paia di guanti erano completamente fallati, invendibili. E quello fu onestamente il momento più difficile da quando ho iniziato la mia attività, da quando ho iniziato il mio progetto. E veramente, se ci ripenso, devo ringraziare tantissimo i miei genitori e le persone che in quel momento mi setterò più vicino e mi supportarono perché dopo soldi investiti, dopo tanto tempo perso e speso per sviluppare un progetto, trovarsi di fronte a una batosta del genere non era facile. Per cui mettendo via un po' di soldi che guadagnavo giocando a calcio, ricominciai a fare prototipi da zero con altri fornitori, provai diversi fornitori, fino a quando finalmente, finalmente nel marzo del 2016 trovai quello che poteva fare il caso mio. Feci veramente gli scongiuri e partì con l'ultima produzione perché sarebbe stata effettivamente l'ultima se le cose non fossero andate bene. Fortunatamente l'ordine arrivò, i guanti andavano benissimo, o comunque benissimo, i guanti andavano abbastanza bene e potei cominciare la mia avventura nell'estate del 2016. Riguardando indietro e pensando a come erano i guanti, il primo ordine con cui andammo online è con i vSense. Se siamo qui oggi e se il Heaven è una realtà, è un progetto in rapida ascesa che sta crescendo forte e bene, io devo ringraziare sì tutte le persone che negli anni hanno veramente sempre collaborato, mi hanno aiutato e sono state parte del progetto, ma soprattutto devo ringraziare i portieri che hanno creduto nel brand fin dal suo inizio, quando ancora era sconosciuto, quando i guanti fondamentalmente non li aveva mai acquistati nessuno e hanno dato per primi fiducia finanziando poi la crescita di Eleven. Quindi grazie veramente a tutti voi. Se fondamentalmente questo è un video sia per raccontare com'è nata, ma anche per ringraziarvi perché senza di voi non sarei qua a raccontarvelo e a mostrarvi i prodotti con così tanto orgoglio. Quindi ragazzi, io spero che questi due video vi siano piaciuti, spero di non essere stato troppo prolisso, ma sicuramente è stato così. Ringrazio Luca che avrà il compito di tagliare questo lungometraggio che ho registrato e niente, non posso far altro che chiedervi di mettere mi piace al video, condividerlo e di augurarvi una buona settimana. Ciao ciao!